Andiamo a presentare subito la serie numero 6 dei cento rana ragazze femmine alla 1 Nicole Polello alla 2 Aurora Peruffo alla 3 Emi Antonello alla 4 Giulia De Marchi alla 5 Elena Andreotti alla 6 Rebecca Salata alla 7 Anna Busatto E quindi Imola Nuoto quest'anno davvero un super gruppo soprattutto per quanto riguarda la rana maschile Coppola alla 2 Poggio alla 4 Castello e quindi Simone Cerasuolo il più giovane in corsia numero 6 che ben si è comportato nella passata stagione Federico Poggio con 28 e 15 medagliato agli assoluti di Riccione in lunga sui 100 A un personale in questa gara in Vasca Corta di 59 e 24 quindi siamo già nel corso dell'ultima subacquea con Poggio alla 4 al suo fianco c'è Andrea Castello sono molto molto vicini quindi se la giocheranno fino all'ultima bracciata se la giudica per un centesimo anche questa prima serie sul filo Federico Poggio con 66 centesimi Castello 67 centesimi quindi Riccardo Cervi 1 1 e 88